Buongiorno, vive il 25 aprile e ricordiamocelo sempre, ogni anno. Sono Grazia Lissi, sono figlia e nipoti di partigiani. La mia famiglia prima di essere partigiana era già antifascista. In questo giorno vorrei ricordare le migliaia di persone che hanno combattuto contro il nazifascismo e chi ha il nazifascismo per combatterlo ha lasciato la vita. Ma vorrei racchiudere questo ricordo con un unico nome, il nome di un bambino, Walter Cardi, ucciso durante una strage nazifascista a Montesole, una delle frazioni di Marzabotto, il più grande eccidio nazifascista che abbiamo avuto in Italia. Nel ricordo di Walter Cardi, nel ricordo delle tantissime vittime, ricordiamo i morti di Sant'Anna di Stazzema, ricordiamo le fosse Ardiatine, ricordiamo Boves, nel ricordo di tutti loro, vorrei ricordare questo giorno così particolare. Nel ricordo delle vittime inerme, sono oltre 23.000 i cittadini civili morti per queste strage. Ecco, la liberazione ci ha liberato da questo orrore e ci ha dato la libertà. Per Walter Cardi, di 15 giorni, ora è sempre resistenza.